Buonasera ragazzi, vi pubblico questo video velocissimo, velocissimo, giusto per dirvi ragazzi, Harry Potter o Hogwarts Mystery non funziona, se non avete l'account Facebook non collegatevi, ogni tanto va, ogni tanto no, vedete che non riesce a collegarsi perché Facebook è down, Instagram è down, Whatsapp è down, quindi il gioco non funziona, quindi se non avete l'account Facebook collegato, vedete, non fatelo perché io avrei appena perso il salvataggio se non fosse che ho Facebook ma non carica, quindi ragazzi mi raccomando di collegare tu, cioè di non giocare finché non si risolve il problema e se no perdete il salvataggio, se avete l'account Facebook non rischiate nulla, se non ce l'avete potrebbe essere un problema, vi aggiornerò nel mio canale, nei post della community o su Instagram se mai riuscirò a caricarlo, direi che per ora è tutto, è fatto il mio sgatto, senza cattino, io devo finire il gufo, maledetto. Alla prossima Alla prossima Alla prossima